rispetto alla Juventus Pelé Pelé verso Cruz ed è clamoroso il vantaggio dell'Inter si toglie la maglia Cruz e la lancia Juventus 0 Inter 1 con l'Inter che era in 9 contro 11 non puoi permettere a Cruz di colpire di testa in mezzo all'aria la sola, non lo puoi permettere perché lui è un grande giocatore e se gli capitano queste occasioni che leggerezza la Juventus Pelé ha indovinato l'assist scatto alla perfezione di Cruz, sorpreso le grottaglie che si vede scucare da dietro Cruz è fuori posizione nettamente le grottaglie pelardi nella terra di nessuno e Cruz colpisce non deve faticare neanche più di tanto per appoggiare il rete la grande giocata bisogna dirlo di Pelé questo giovane centrocampista è portoghese e Cruz sfrutta la grande la precisione per Cesar arriva Maxwell Cesar ed è doppietta di Cruz all'inizio ti avevo detto che volevo vedere la difesa della Juventus bruciato sullo scatto Bunzon da Cruz un gol da grande attaccante giocata di prima sul primo palo niente da fare per Belardi ha preso quella frazione di seconda Bunzon che è bastata per colpire grazie a tutti grazie a tutti